Facciamo un esercizio sulle minusvalenze. Il 4 marzo viene dismesso un impianto costo storico 120.000 euro, ammortizzato per 30.000 euro, quindi dobbiamo andare a trovare subito il valore contabile facendo la differenza tra 120.000 e 30.000 fa 90.000, quello è il valore contabile. Abbiamo dei mastrini già aperti, cioè impianti, fondo ammortamento impianti, quindi 120.000 e fondo ammortamento impianti invece 30.000 in avere. Andiamo a chiudere il fondo ammortamento, quindi mettiamo in dare 30.000 e in avere di impianti 30.000. 4 marzo, andiamo a fare il libro giornale, 4 marzo, 4 marzo, fondo ammortamento impianti, impianti 30.000 e 30.000. Dopodiché passiamo alla rilevazione della vendita facendo 88.000 per 22 diviso 100 perché la traccia ci dice che il giorno stesso vendiamo il bene a 88.000 euro più IVA 22% e fa 19.360, apriamo il mastrino IVA debito 19.360, contrassegnato con il 2 e poi per determinare l'importo del credito complessivo basterà fare 88.000 più 19.360. 88.000 lo mettiamo in avere di impianti e il praticamente l'importo complessivo crediti verso clienti 107.360 lo mettiamo in dare appunto del mastrino crediti verso clienti. Andiamo sul libro giornale 4 marzo, 4 marzo, 4 marzo, clienti variazione finanziaria attiva 107.360, IVA debito 19.360 e impianti vendita di impianti 88.000. Andiamo adesso a calcolare la plus valenza, in questo caso il valore contabile del nostro bene era 90.000 ma noi abbiamo venduto l'impianto ad un prezzo inferiore, quindi abbiamo una minus valenza 2.000, variazione economica negativa, apriamo il mastrino della minus valenza 2.000 in dare e questo 2.000 lo mettiamo anche in impianti in avere per chiudere il conto e e quindi contrassegniamo con il 3. Andiamo a fare adesso il libro giornale 4 marzo, 4 marzo, minus valenza 2.000, variazione economica negativa, chiuso a impianti, quindi il conto impianti poi viene chiuso.